Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. FISCO ZEN 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 detto adesso vivono in Arizona e la donna si tuffa in men che non si dica in un'altra relazione, si sposa per la terza volta e cambia il suo cognome che appunto diventa Hobson. La coppia mette al mondo una figlia di nome Megan. Gli anni passano, Michelle a questo punto ha 30 anni, divorzia dall'ennesimo marito e alla fine degli anni 2000 è una mamma single che vive con le due figlie più piccole mentre i due figli maschi Logan e Ryan restano sotto la custodia del primo marito della donna. Tuttavia in questo periodo Michelle prende una decisione significativa per la sua vita da madre, vuole adottare e prendere in affido dei bambini spinta da motivi più finanziari che altruistici. Infatti Michelle è disoccupata ma adottando o prendendo in affido dei bambini sa che otterrà denaro dal governo. Alla fine degli anni 2000 Michelle inizia con l'affidamento di un bambino, poi chiede l'affidamento di un altro orfano, poi di un altro ancora e infine di un quarto bimbo. I soldi iniziano a riempire il suo conto corrente e lei sceglie addirittura di adottare alcuni bambini. Hanno tutti tra i 3 e i 12 anni quando vengono affidati alle cure di Michelle. Capita anche che lei si dedichi a 10 bambini per volta, aprendo le porte della sua casa sotto l'esame del CPS, l'agenzia dei servizi di protezione dell'infanzia. A quanto dicono gli assistenti hanno controllato i suoi precedenti, eseguito diverse visite a domicilio e analizzato ogni angolo della casa, concludendo che Michelle è una candidata perfetta come madre affidataria. Non passa molto tempo prima che la donna inizia ad accogliere pure i bambini che le altre famiglie rifiutano, i quali presentano delle disabilità fisiche o nella capacità di apprendimento e connessi bisogni speciali. Insomma, tutti i ragazzini necessitano di particolari cure e attenzioni. Michelle adotta una ragazza cieca, accudisce altri bambini con gravi deficit intellettivi e la gente comincia a elogiarla. Michelle è la salvatrice che ha accolto tanti piccoli soggetti vulnerabili. Viene vista come un angelo sceso in terra perché tutti sono convinti che lo stia facendo per bontà d'animo. La donna costruisce la facciata di una famiglia perfetta, porta fuori tutti i bambini ed è come se li facesse sfilare in giro per il quartiere sperando che la gente la noti. Tuttavia, appena le porte di casa si chiudono, l'immagine della perfezione si disintegra. Siccome l'identità di questi bambini non è stata resa nota al fine di proteggerli, io non posso dirvi i loro nomi. Online troverete alcune loro immagini, ma i volti sono sfocati sempre per ragioni di privacy e tutela. Comunque, man mano che la famiglia si allarga, Michelle si ritrova a dover accudire fin troppi bambini. E fa fatica a mantenere il controllo su tutti, così presto inizia a trascurarli. Tanto per cominciare, li sottoalimenta. Nonostante la donna riceva entrate consistenti dal governo per ogni bambino che alleva, lei tiene i soldi per sé e non somministra ai piccoli cibo sufficiente. È anche negligente nel gestire la loro igiene, non compra mai prodotti adeguati, nemmeno il dentifricio per pulire i denti. Non fa mai il bagno ai bambini più piccoli e non permette ai ragazzini più grandi di fare la doccia. Chiaramente non si comporta così soltanto per assecondare le sue manie di controllo, ma anche perché vuole risparmiare. Siccome gestire i bambini le risulta sempre più complicato, Michelle comincia ad abusare fisicamente di loro, li prende a pugni, a calci e li spinge ogni volta che uno di loro infrange una regola o fa qualcosa che Michelle non approva. Si accanisce persino contro i bimbi che hanno appena tre anni. Pensate che la donna li tiene chiusi a chiave nelle loro stanze per la maggior parte del giorno perché non sopporta nemmeno di vederli. Un giorno installa su diverse porte della casa delle serrature esterne aggiuntive, sempre allo scopo di segregare i bambini quando sono un po' troppo vivaci per i suoi gusti. Talvolta arriva a tenerli rinchiusi anche per giorni interi senza mai lasciarli uscire. Questo vuol dire che i bambini non hanno accesso al cibo, all'acqua o al bagno. La maggior parte delle volte li confina in quelle stanze, nudi, oppure fa loro indossare dei pannolini. Il risultato è che questi poveri bambini sono sporchi di urina e feci, sono gravemente sottopeso, malnutriti e disidratati. Questa triste vicenda si protrae nel 2010, quando i social media stanno esplodendo e gli influencer, tra cui anche gli youtuber, sono in aumento. Nuovi canali dedicati ai rapporti familiari spuntano sempre più spesso. I creatori di contenuti scoprono che si può guadagnare grazie a queste piattaforme, in particolare proprio su YouTube. E ormai sappiamo quanto il denaro sia importante per Michelle. Lei visiona tutti questi canali YouTube dove le famiglie raccontano la propria quotidianità e desidera far parte di questo mondo. D'altronde ha tantissimi bambini a sua disposizione, tutti assoggettati al suo controllo. Pensa che potrebbe riprenderli, fare dei video e caricarli su YouTube per guadagnare qualche soldo extra. Così crea un canale e lo chiama Fantastic Adventures. L'intero concetto dietro questo profilo è mostrare i bambini a lei affidati mentre si divertono, filmarli mentre per l'appunto vivono delle avventure fantastiche. Insomma si tratta di contenuti incentrati sui bambini e destinati ai bambini. Il canale Fantastic Adventures ora è stato eliminato, ma alcune clip circolano ancora su internet. Guardando questi contenuti si nota palesemente che sono amatoriali ed è anche comprensibile visto che sono realizzati da bambini. Fantastic Adventures non ricorda quei canali di vlog a tema familiare come Eight Passengers, gestito da Ruby Frankie, di cui ho parlato in un altro caso. In Eight Passengers un adulto, cioè la stessa Ruby, gestiva a pieno le riprese e compariva anche nei video con i suoi figli, mentre Michelle non appare nei filmati di Fantastic Adventures. Tuttavia pure i video del canale creato da Michelle sono studiati a tavolino e sceneggiati. In realtà non mostrano l'autentica quotidianità dei bambini e vi mostro delle clip per farvi capire che cosa intendo. I bambini interpretano vari personaggi, recitano in diversi giochi di ruolo prendendo parte a delle scenette divertenti. Personalmente le loro interpretazioni mi sembrano vicine a quelle degli attori bambini. In molti contenuti i bambini si travestono da supereroi, maneggiano pistole e giocattolo e completano missioni o affrontano sfide. I video contengono diversi effetti speciali come ad esempio i raggi laser. Vi ripeto che i contenuti sono molto amatoriali, ciò nonostante piacciono parecchio ai bambini che li guardano. L'aspetto principale che Michelle vuole far trasparire dai video è la felicità di tutti i suoi bambini e in effetti sembra che questi piccoli protagonisti si stiano divertendo un mondo. Ma purtroppo la realtà è ben lontana dall'apparenza, perché i bambini non si stanno divertendo affatto. Sanno già che quando le telecamere si spegneranno, subiranno abbandoni fisici ed emotivi, verranno trascurati e rinchiusi nelle loro stanze per ore, se non giorni consecutivi. Ma è impossibile rendersene conto semplicemente guardando i video postati su youtube. Se pensate che quanto vi ho raccontato finora sia gravissimo e terribile, allora preparatevi perché la situazione non fa altro che peggiorare. Quando il canale diventa abbastanza attivo e monetizzato, Michelle si cala a pieno nel ruolo di manager e produttrice e conoscendo la sua personalità possiamo immaginare che si trasformerà in una sottospecie di dittatrice. Questo però è una buca evidente e sarebbe sufficiente osservare bene i bambini per capire che vengono maltrattati. Allora perché Michelle riesce ad agire indisturbata, considerando pure che prende in affido fino a 10 bambini per volta, lei rimane seduta sul divano tutto il giorno, fuma una sigaretta dopo l'altra e urla ordini sui figli adottivi. Questa donna non muove un dito, sono i bambini che devono affacendarsi in quella casa, puliscono, accudiscono i bimbi più piccoli, preparano tutti i pasti, compresi quelli per Michelle e gli riservano mentre lei resta spalmata sul divano. Non si alza da lì neanche per mangiare. Questi bambini quindi non solo devono servire e riverire Michelle, ma anche essere pronti a girare i video su YouTube affinché la donna che li maltratta intaschi tutti i soldi. I bambini sono costretti a girare sempre più video, a memorizzare sempre più copioni, col fine di far guadagnare sempre più soldi a Michelle. Lei ricrea una specie di ambiente green screen nel suo armadio e i bambini devono passare ore e ore lì dentro seguendo ogni singolo comando di Michelle. Il green screen, come saprete, è uno strumento usato per sostituire lo sfondo di un video. Quindi che succede? Si gira il video con lo sfondo verde e poi in post-produzione si sostituiscono i pixel verdi con un'altra immagine o un altro video. Quando verranno a galla i maltrattamenti, sommersi dai video ludici caricati su YouTube, riesaminare questo materiale farà apparire gli abusi più evidenti. I bambini hanno una voce robotica, è impostata e secondo me era già chiaro che non si stessero divertendo. Comunque suscita tanta tristezza guardare questi video con la consapevolezza di ciò che hanno vissuto in quella casa, sotto la custodia di una donna spietata. I bambini, obbligati da Michelle a pulire casa, mantengono due stanze immacolate. Questo perché la maggior parte delle riprese per YouTube avvengono qui. Il resto della casa, in verità, è ben lontano dall'essere lindo e ordinato. Le camere dei bambini sono un vero disastro. Vi regnano a braccetto il caos e la sporcizia. E pensare che, quando non devono girare i video, pulire la casa o preparare i pasti per Michelle, i ragazzini vengono rinchiusi a chiave proprio in questi ambienti lerci e disordinati, senza nemmeno avere accesso al bagno. Immaginate l'odore. Deve essere nauseabondo. Quando la seconda figlia biologica di Michelle è ancora nella prima adolescenza, si trasferisce altrove. Mi chiedo a quanti soprusi abbia assistito e esercitati nei confronti dei figli adottivi. Presumo che Megan vada a vivere da suo padre, ma anche lei riapparirà in questa storia, quindi ricordate. Mentre per quanto riguarda la figlia maggiore di Michelle, non è disponibile nessuna informazione, nemmeno il suo nome è noto e presumo che anche lei non vivesse più in quella casa. Ci sono diversi buchi nella trama di questa vicenda contorta, proprio perché molti dettagli non sono stati resi pubblici. Tuttavia, sui figli biologici maschi di Michelle si hanno più informazioni. Vi sto parlando di Logan e Ryan, che lei aveva tenuto nascoste al suo secondo marito, Gino. Loro ormai sono cresciuti, hanno 18 e 20 anni. Per un motivo a cui non si riesce a risalire, i due ragazzi vanno a vivere a casa di Michelle, con tutti i bambini che lei ha adottato o che le sono stati affidati. Si trasferiscono quindi in un altro stato, ovvero in Arizona, anche se la madre non si era mai curata di loro. Ma ecco il risvolto terrificante. I suoi figli biologici, ora, diventano dei piccoli aiutanti. Perché sì, sono tremendi esattamente quanto Michelle. Le aiutano a mantenere il controllo sui bambini, quindi anche loro gli urlano contro degli ordini affinché rispettino tutte le regole imposte dalla madre. I due ragazzi appaiono pure in molti video di YouTube e la maggior parte delle volte interpretano il ruolo dei cattivi. Direi che Logan e Ryan sono entrambi adulti quando si trasferiscono a casa di Michelle. A quanto ne sappiamo non sono stati cresciuti dalla madre e, come verrà sottolineato, non hanno subito alcun tipo di abuso da parte del padre. Quindi, secondo me, non hanno alcuna giustificazione per non aver denunciato immediatamente i maltrattamenti subiti da quei bambini, di cui diranno testimoni e non solo. Una domanda, sì, può sorgere spontanea. Com'è possibile che nessuno se ne accorga? Voglio dire, tutti i bambini vanno a scuola malconci, pieni di lividi, sono palesemente malnutriti e sottopeso. Insomma, basta guardarli per intuire cosa stanno subendo e che vengono trascurati. Quindi, perché nessuno interviene? Beh, in realtà le insegnanti segnalano la situazione ai servizi di protezione per l'infanzia, considerando le ipotesi di abuso e trascuratezza, ma il CPS ignora le segnalazioni. Eppure nel corso degli anni in cui Michelle fa parte del sistema di affido e adozione, ne vengono effettuate tante. La prima segnalazione risale al 2011, quando una babysitter riporta che ci sono delle serrature all'esterno delle camere dei bambini. Una cosa preoccupante. Riferisce che i bambini vengono rinchiusi nelle loro camere e lasciati lì dentro a piangere disperati. Il CPS avvia un'indagine, eppure conclude che le accuse sono infondate. Due anni dopo, nel 2013, al CPS perviene un altro rapporto trasmesso da un insegnante. Uno dei bambini le ha detto che Michelle li fa restare in piedi nell'angolo della stanza per ore e ore quando tornano a casa da scuola. In realtà tutti i bambini sono addirittura costretti a rimanere in piedi la notte intera nell'angolo di una stanza e chiedono continuamente di poter toccare cibo perché sono molto affamati. Ma, di nuovo, l'indagine decreta che le accuse sono infondate. Appena una settimana dopo, nel maggio 2013, arriva un ulteriore rapporto al CPS e a inviarlo è un'altra insegnante, la quale afferma di aver osservato quei bambini nel corso di ben tre anni e per lei è lampante che vengono trascurati. Questa insegnante si è convinta a fare la segnalazione perché la ragazza cieca, adottata da Michelle, si è rappresentata a scuola con le scarpe letteralmente a pezzi. Inoltre aveva un sacco di sporcizia tra i denti. L'insegnante le aveva chiesto quanto spesso li lavasse e la povera ragazza, abbassando la testa per la vergogna, aveva risposto, mia mamma mi ha portato via lo spazzolino da denti. L'insegnante riferisce al CPS anche che Michelle non ha mai voluto farsi coinvolgere nelle vite dei bambini, infatti non si è neppure mai presentata a scuola. Viene avviata l'ennesima indagine che conduce al solito errato esito, le accuse sono infondate. E Michelle in seguito si prende pure la briga di andare a scuola per vantarsi con le insegnanti di averla fatta franca. Successivamente ritira la figlia adottiva cieca dall'istituto per farla studiare a casa. Circa un anno dopo, nell'agosto 2014, al CPS viene presentata un'altra segnalazione, questa volta proveniente dal personale dell'asilo nido frequentato dai bambini più piccoli. Emerge che non vengono lavati, che sono ricoperti di feci e presentano numerose eruzioni cutanee e vesciche su tutto il corpo. Ma ancora una volta, il CPS ritiene queste accuse infondate. Nel 2015 le accuse vengono presentate persino dagli stessi bambini. Uno di loro afferma che Michelle gli aveva lanciato una lattina in testa, ferendolo fino a farlo sanguinare. Un'altra delle figlie adottive fa notare che ha un occhio nero e dei lividi che risalgono dal gomito fino alla fronte. Anche un altro bambino ha un livido sulla fronte e uno sul braccio sinistro, poi un graffio sul mento, un taglio sulla testa e un'estesa eruzione cutanea da pallolino. Poco dopo arriva l'ennesimo rapporto al CPS, perché un altro dei bambini è così affamato da bere il latte artificiale e da rubare il cibo da scuola. Queste atrocità riguardano bambini diversi, infatti racchiudono vari resoconti. Tutti stanno facendo la cosa giusta in questo caso. I bambini stanno chiedendo aiuto e gli insegnanti, che si prendono cura di loro, stanno denunciando le condizioni in cui versano. Ma ogni volta che effettuano una segnalazione al CPS ricevono la stessa avvilente risposta, perché chiaramente nessuno sta indagando davvero. Gli assistenti non hanno mai investigato seriamente sulle condizioni di questi bambini, perché è più sbrigativo ribadire che le accuse sono infondate. Questi rapporti sono stati fatti da persone diverse e nel corso degli anni. Ma allora perché sono stati sempre puntualmente ignorati? Com'è possibile che nessuno di questi report abbia attivato effettivamente un provvedimento? Perché nessuno si è chiesto seriamente come mai a Michelle fosse costantemente permesso di allevare o adottare bambini? Ve lo giuro, non capisco come il CPS abbia permesso che tutto ciò accadesse. Cioè, ragazzi e ragazze, rendetevi conto che non stiamo parlando di una piccola svista isolata, ma di errori ripetuti costantemente e nelle stesse modalità. Tutti i bambini affidati alle cure di Michelle sono soggetti vulnerabili, ma pare che nessuno tenga loro. Certo, ogni volta che il CPS svolge delle indagini, la donna mette in scena uno spettacolo, un'immagine falsata, fa pulire i bambini tutta la casa in modo che l'ambiente domestico risulti impeccabile e li obbliga a cucinare un ricco pasto in attesa dell'operatore del CPS. Sembra quindi che i bambini vengano ben nutriti e Michelle indica a tutti cosa devono dire, come se dovessero memorizzare l'ennesimo copione. Vi ricordo che, grazie ai video registrati per YouTube, i ragazzini hanno imparato a mentire in modo convincente e poi sono terrorizzati da Michelle, la quale minaccia costantemente di ucciderli tutti se non mentono al CPS senza farlo notare. La donna descrive persino nel dettaglio ai bambini come li avrebbe ammazzati. A mio avviso è grave che a Michelle venga sempre concesso di prepararsi per le visite, perché ogni volta che il CPS inizia a indagare la informa che è previsto l'arrivo di un assistente. Questo le dà il tempo materiale di far pulire la casa e di spiegare ai bambini cosa dire. Michelle viene avvisata di ogni visita del CPS perché è amichevole con gli operatori. Siccome ha adottato e alleva tanti bambini, ha avuto modo di conoscere tutti gli assistenti e li ha ammagliati e manipolati. Risulta che a Michelle piacesse particolarmente adottare o ricevere in affido bambini particolarmente vulnerabili, anche più facili da controllare e manipolare. Se uno dei bambini avesse raccontato la verità a un operatore del CPS o avesse detto comunque qualcosa che a Michelle non piaceva, lei avrebbe esclamato, oh non so di cosa stia parlando, sai ha difficoltà di apprendimento. Tragicamente il CPS crede sempre alle parole di Michelle, abbandonando nelle sue grinfie questi bambini indifesi. Come degli esperti abbiano potuto trascurare l'evidenza, per me resta un mistero. Arriviamo al dicembre 2017, sono passati ben sei anni dalla prima segnalazione. Una sera dopo un episodio abusante particolarmente grave, uno dei figli adottivi di Michelle riesce a scappare di casa senza che la donna se ne accorga. Il bambino inizia a correre lungo la strada cercando di allontanarsi il più possibile. Quando Michelle si accorge della sua assenza ha pure il coraggio di chiamare la polizia per denunciare la scomparsa del figlio. Il bambino viene ritrovato completamente nudo nel cortile di un vicino, tremante e traumatizzato. Basta guardarlo per capire che è stato abusato. E quando la polizia gli rivolge delle domande, lui racconta tutto agli agenti. Dice che è affamato, che viene maltrattato e picchiato e prega gli ufficiali di non riportarlo in quella casa. A causa dello stato in cui versa, il ragazzino viene trasportato in ospedale, ma nonostante ciò che ha riferito, la polizia convoca lì Michelle perché vuole conoscere la sua versione della storia. E fin qui non riscontro nulla di assurdo, ma purtroppo le viene anche permesso di avvicinarsi al bambino, mentre avrebbero dovuto rimanere ben separati. Questo è l'ABC, le basi. Non si può permettere al presunto aggressore di accostarsi alla vittima, specialmente quando è un bambino. Quando Michelle arriva all'ospedale, la polizia le chiede perché il figlio adottivo l'accusi di subire avvisi da parte sua. Michelle risponde con le sue solite fesserie, il bambino ha gravi problemi comportamentali e si sta chiaramente inventando tutto. Allora la polizia commette lo stesso identico errore del CPS, si fida delle parole di Michelle. Non compie ulteriori indagini e ignora completamente il ragazzino. Gli ufficiali diranno che Michelle sembrava una donna responsabile e onesta, quindi le hanno permesso di rientrare dall'ospedale insieme al ragazzino, sebbene lui gli avesse implorati di non fargli rimettere piede in quella casa. In seguito il CPS avvia un'altra indagine e durante la visita l'operatore formula le seguenti osservazioni. I bambini affermano di essere chiusi nell'armadio al piano superiore per il 90% del giorno. C'è una serratura inversa sulle porte, quindi non sono in grado di uscire. I bambini riferiscono che vengono nutriti solo ogni due o tre giorni, che Michelle priva loro persino dell'acqua come forma di punizione, oltre a colpirli alla testa e ad averli ritirati da scuola. L'operatore conclude il rapporto scrivendo Michelle Hobson è a conoscenza delle indagini del CPS e informa i bambini che farà loro del male se diranno qualcosa che possa comprometterla. Direi che queste parole non lasciano spazio ai dubbi, l'operatore sta chiaramente segnalando che nella casa di Michelle i bambini vengono trascurati e abusati. Ma indovinate un po'? Sei giorni dopo viene effettuata una seconda visita domiciliare, poi il caso viene archiviato perché le accuse risultano infondate. Mi chiedo su quale base, ma non emergono informazioni più dettagliate purtroppo. Non so onestamente cosa potrebbe essere successo durante questa seconda visita, per cui l'assistente ha creduto che tutto andasse bene. In quella casa i bambini mangiano una volta ogni tre giorni. Come fa a non rendersene conto? Nessuno nota quanto sono magri e malnutriti. Questa investigazione si è verificata perché uno dei bambini affidati a Michelle è scappato e lei ora vuole assicurarsi che mai nessuno dei suoi figli adottivi o in affido faccia qualcosa del genere. Per cui li punisce severamente tutti. Li relega in un angolo della stanza costringendogli a tenere le braccia sollevate per ore e ore. Le picchia e urla contro di loro ancora più spesso. Questa donna li sta maltrattando psicologicamente ed emotivamente e li fa sentire completamente abbandonati. Ripete al bambino che ha provato a scappare che la polizia non ha fatto e non farà mai nulla per proteggerlo perché a nessuno importa di lui. Lo precisa anche a tutti gli altri figli. Nessuno si sarebbe mai preoccupato per loro. Nessuno li avrebbe mai aiutati. Michelle ribadisce ai bambini che se avessero provato a fuggire e lamentarsi li avrebbe uccisi e vi ricordo che i figli della donna hanno dai 3 ai 15 anni. Credono tutti che Michelle sia capace di commettere un omicidio dunque lei ha raggiunto il suo obiettivo. I bambini sono terrorizzati e convinti che nessuno li aiuterà mai. Di conseguenza nessuno di loro si fa più avanti per denunciare gli abbi perpetrati dalla madre adottiva. Arriviamo alla primavera del 2018. Michelle è una mamma affidataria da circa un decennio. Sono passati 7 anni dalle prime segnalazioni al CPS. A questo punto accade qualcosa di significativo. Il canale youtube di Michelle, Fantastic Adventures, inizia a decollare. Sta caricando video sulla piattaforma da molto tempo ormai e il suo canale sta ricevendo buone visualizzazioni. Certo, ancora nulla di straordinario. Ma poi di colpo qualcosa cambia. Come riporta il sito Social Blade, una settimana prima il canale della donna guadagna una manciata dei nuovi iscritti e la settimana successiva addirittura migliaia di persone si iscrivono. Fantastic Adventures ottiene milioni di visualizzazioni. Ogni settimana il canale cresce rapidamente da 10.000 a 100.000 iscritti. Poi alla fine del 2018 totalizza mezzo milione di iscritti. Ogni singolo video riceve più di un milione e 200.000 visualizzazioni e dopo non molto gli iscritti salgono a 800.000. Ovviamente più le visualizzazioni aumentano più Michelle guadagna. Dopodiché il profilo esplode raggiungendo un totale di 250 milioni di visualizzazioni dei suoi contenuti. Vi faccio presente che ottenere una crescita del genere in così poco tempo è davvero una rarità. Ma torniamo a parlare dei guadagni. Michelle, che è una donna avida, non si accontenta di questi risultati. In questo periodo ben sette figli vivono con lei e hanno tra i 6 e i 15 anni. Quelli che erano bambini presi in affido per la maggior parte sono stati legalmente adottati e Michelle, non appena il suo canale riscuote successo, ritira tutti i ragazzini da scuola per istruirli a casa. La scuola però per loro era come un rifugio sicuro. Probabilmente le lezioni rappresentavano gli unici momenti in cui ricevevano attenzioni, cure e cibo. Dato che, una volta tornati a casa, venivano rinchiusi nelle loro stanze per il 90% del tempo. Immaginatevi come possano sentirsi adesso che Michelle pretende che se ne stiano in casa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, affinché si concentrino sulla realizzazione dei video destinati a YouTube, che le fanno guadagnare soldi. Possiamo intuire che nella realtà i figli non vengono affatto istruiti a casa. Michelle crea anche un profilo Instagram per promuovere il canale YouTube in cui pubblica le biografie di ogni singolo bambino e ragazzino che vive con lei. Menziona tutte le difficoltà che i suoi figli adottivi devono affrontare quotidianamente le loro disabilità e vulnerabilità. Spiega che una delle sue figlie è cieca e si dipinge come una donna straordinaria, visto che ha salvato questa ragazzina da una famiglia violenta, stravolgendo il suo triste destino. I suoi due figli biologici, Logan e Ryan, diventano gli editor del canale. Michelle ripaga 5.000 dollari al mese e l'attività procede bene. Michelle inizia a collaborare con altri canali a tema familiari, come quello per bambini chiamato Extreme Toys TV, che vanta quasi 9 milioni di iscritti e 5 miliardi di visualizzazioni ai suoi video. Il canale è gestito da Zeb e Tony, che hanno due figli. La coppia invita a casa Michelle e i suoi sette figli per filmare i contenuti previsti della loro collaborazione. Zeb e Tony affermeranno di non aver assolutamente sospettato che i bambini di Michelle fossero vittime di abusi. Ma col tempo i ragazzini si stufano delle riprese, non vogliono più esibirsi a beneficio della madre adottiva. Non c'è niente nella loro vita che gli piaccia e ora persino la scuola gli è stata portata via. L'unica cosa che fanno tutto il giorno è recitare davanti alla videocamera, abbozzando, un sorriso finto. Non ce la fanno più. Ma secondo voi, come reagisce Michelle? Beh, purtroppo li punisce in modi sempre peggiori. Se i bambini sono di cattivo umore perché non vogliono effettuare le riprese e quindi non fingono di essere felici e non eseguono gli ordini di Michelle, lei comanda loro di entrare nella stanza con lo sfondo verde, che vi ricordo essere un armadio, quindi uno spazio davvero piccolo. Li sfoglia e fa indossare dei pannolini a tutti, persino ai figli più grandi, e li rinchiude lì dentro per giorni interi. Rimangono completamente al buio in quella stanza minuscola, soli, nudi, senza acqua, senza cibo e un bagno a disposizione, talvolta per quattro giorni di fila. Non c'è nemmeno un materasso su cui dormire. Tutti sono obbligati a sdraiarsi sul pavimento duro e freddo per riposare. L'urina e le feci sono sparsi ovunque e nelle giornate o notti più gelide i ragazzini si stringono tra loro per scaldarsi. A volte Michelle punisce i bambini impedendo loro di dormire e sottolineo che la privazione del sonno può comportare problemi di salute fisici e mentali fino a condurre alla morte. Costretti negli angoli delle soffocanti pareti verdi, i bambini dovrebbero restare con le mani alzate sopra la testa anche per un giorno e una notte intera. Non possono muoversi, sedersi, dormire, bensì devono rimanere immobili in questa posizione. Michelle riesce a monitorarli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a una telecamera che ha fatto installare in quello stanzino. Se i ragazzini si muovono o si addormentano in piedi lei entra nell'armadio per pizzicare loro la pelle e svegliarli. Vengono liberati quando arriva il giorno delle riprese perché Michelle ha interesse che continuino tutti a esibirsi davanti alla videocamera. La donna ordina i bambini e i ragazzi di uscire dalla stanza con le pareti verdi, permette loro di fare un bagno o una doccia, dispensa loro del cibo e si comporta in modo gentile. Questi giochi mentali contorti ovviamente confondono i suoi figli adottivi. Un giorno ad esempio vengono rinchiusi nell'armadio senza cibo né acqua e poi liberati improvvisamente. Michelle li tratta bene, allestisce un ricco buffet, li inonda di lodi per trasmettere loro una sensazione di benessere. La donna fa tutto il possibile per renderli felici dato che i bambini devono mostrarsi di buon umore mentre registrano i contenuti a lei graditi, dunque recitare in modo più realistico. Inoltre premiandoli soltanto in queste circostanze Michelle fa sì che i suoi figli non vedano l'ora che arrivi il giorno delle riprese. E sapete qual è la punizione preferita che Michelle infligge ai suoi figli? Lo spray al peperoncino. Quando li confina nella stanza green screen ricopre ogni centimetro della loro pelle con lo spray al peperoncino concentrandosi soprattutto sulle parti intime. Vuole che i ragazzi provino dei dolori lancinanti mentre rimangono segregati per giorni e pure quando gli è finalmente concesso di uscire talvolta permane il divieto di lavarsi per eliminare ogni traccia dello spray al peperoncino. Questa forma di torta causa eruzioni cutanee molto serie. Ma non è finita qui perché Michelle pizzica le parti intime dei ragazzi fino a farli sanguinare o li colpisce con delle pistole stordenti. Oltre a questo li sculaccia, li piccia o semiscia con diversi oggetti presenti in casa. Versa la paprika piccante nelle loro bocche, brucia la loro pelle con un accendino, li costringe a fare dei bagni ghiacciati spingendo le loro teste sott'acqua. I due figli adulti di Michelle, sempre presenti in casa, assistono a tutti i maltrattamenti messi in atto dalla madre e, anche loro, sbraitano contro i suoi figli adottivi nel tentativo di tenerli sotto controllo. Sebbene non eseguano le punizioni corporali in prima persona, continuano a essere complici della madre. Inoltre, vi anticipo già che Ryan e Logan verranno anche accusati di aver accusato intimamente dei bambini più piccoli. Anche se non sono ancora stati condannati per questo reato, sono tuttora in attesa di processo, quindi per ora parliamo di accuse. Arriviamo al 2019. Il canale sta riscutendo un notevole successo da circa un anno. Michelle ha incassato parecchio denaro e continua a guadagnarlo. Ora fa diverse sponsorizzazioni e nuove opportunità si presentano per la sua famiglia, correlate a grandi marchi. Ben presto persino la Disney contatta Michelle, proponendo una collaborazione a lungo termine per diventare un grande inserzionista di Fantastic Adventures. Michelle si sfrega le mani. Diventerà ancora più ricca, ma allora dovrà essere ancora più dura con tutti i suoi figli per spingerli a fare sempre meglio. Per abbellire i contenuti caricati, Michelle va in California e fa un'offerta per un immobile. Vuole trasferirsi a Los Angeles con tutta la famiglia ed essere circondata da celebrità. E' questo il suo grande sogno. Fortunatamente, tale sogno, basato sulla falsità e sui soprusi, non si avvererà perché presto il mondo artefatto di Michelle crollerà in mille pezzi. Alla fine di marzo 2019, una delle figlie adottive di Michelle ha necessità di andare dal dentista. Vi ricordo che la donna non permette a nessuno dei suoi figli di lavarsi i denti e la povera ragazza ormai li amarci, si nota persino nei video pubblicati online. Diversi utenti commentano i denti della ragazza, ma Michelle vuole essere ritratta come la mamma adottiva perfetta, quindi non può mica ignorare la situazione. Sua figlia dal dentista ci andrà. Quando arriva il giorno dell'appuntamento, Michelle chiede alla propria figlia biologica più giovane, Megan, di portare la ragazzina dal dentista. Come ricorderete, Megan non vive più con sua madre da qualche anno, ma adesso che ha 19 anni, si lascia nuovamente coinvolgere dalla sua vita. Va a casa di Michelle durante i giorni delle riprese per collaborare al marketing e alla produzione. Siccome vive l'ambiente domestico soltanto in queste circostanze, Megan non è al corrente degli aborti esercitati dalla madre. Poi, se ricordate, in occasione delle registrazioni tutti i figli adottivi vengono trattati bene. In ogni caso, il dentista si rende conto immediatamente che la dentatura della ragazza è ridotta davvero male. Per cui le rivolge alcune domande, indagando sull'ambiente che la circonda. Poi, durante il viaggio in macchina verso casa, Megan chiede alla sorella adottiva. Perché hai avuto bisogno di consultare un dentista? Come sei arrivata a questa situazione? La ragazza, a questo punto, si fa coraggio e racconta le condizioni in cui vive e i maltrattamenti che subisce. Dopo pochissimi minuti scoppia a piangere e confessa di essere costantemente affamata e di vivere chiuse in una stanza per la maggior parte del tempo. Megan è a dir poco scioccata da queste rivelazioni. Apprende solo ora che i figli adottati di sua madre vivono nel dolore, nella privazione e nella sporcizia. Allora recupera il cellulare e comincia a filmare sua sorella durante le confessioni per procurarsi la prova di una testimonianza diretta. La ragazza racconta dei giorni di prigionia nella stanza con le pareti verdi, del divieto di accedere al bagno ed è l'obbligo di dormire sul pavimento freddo e duro. Spiega che a volte le viene impedito di mangiare e di bere per quattro giorni di fila, perché a Michelle basta poco per andare in escandescenze, anche un oggetto che finisce a terra distrattamente. Poi la ragazza descrive le orribili punizioni inflitte tramite lo spray al peperoncino. Quando Meghan finisce di registrare il video va direttamente alla stazione di polizia, così finalmente il crollo di Michelle Hobson ha inizio. Ora che è Meghan a presentare la denuncia, le autorità prendono le accuse seriamente, ammettendo che la situazione è davvero parecchio pericolosa per la vita di tutti i ragazzini adottati da Michelle. La polizia si reca immediatamente a casa di Michelle. È possibile vedere la scena attraverso il filmato registrato dalle bodycam degli agenti. Uno dei figli biologici della donna apre la porta e un poliziotto gli spiega che devono effettuare un controllo sociale. La gente entra in casa e questa è l'unica volta in cui Michelle non è stata avvisata della visita di una figura autoritaria, di conseguenza non ha avuto il tempo di prepararsi. L'ufficiale ispeziona l'ambiente e individua presto sostanziose prove degli abusi e degli atti di negligenza. I bambini vagano in giro e sono rinchiusi nelle loro camere. Alcuni sono nudi, altri indossano solo un pannolino. Appaiono malnutriti e malati, con i visi solcati da profonde occhiaie scure. Le loro stanze sono sporche e maleodoranti. Vestiti e spazzatura sono accatastati ovunque. Il disordine la fa da padrona. Gli ufficiali interrogano tutti i ragazzini e tutti i bambini separatamente e ognuno di loro dichiara di aver molta fame e sete. Allora un poliziotto porta una delle bambine davanti alla dispensa e le chiede Che cosa preferisci? Puoi mangiare quello che vuoi, sei al sicuro adesso, ti proteggeremo. Mangia pure mentre aspettiamo, ok? Guarda, ci sono delle patatine. La povera ragazzina però è terrorizzata. Infatti ripete davanti alla dispensa No, 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 non mi è permesso mangiare. Mia mamma se ne accorgerà dal mio alito. L'ufficiale, allora, prova a rincuorarla dicendole Ascolta, non preoccuparti. Lei non sentirà il tuo alito. Non parlerai con tua mamma in questo momento. No, 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 non preoccuparti. Non preoccuparti. No, non, 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 non parlare con mamma in questo momento. Gli ufficiali trovano anche numerose bombolette di spray al peperoncino ed esaminano la stanzetta dai muri verdi dove i bambini vengono rinchiusi e isolati. Ma individuano anche pile di banconote da 100 dollari. Non è chiaro perché Michelle tenga tutti questi contanti in casa Ma questo ci dà l'idea dei guadagni ottenuti grazie al lavoro dei suoi figli su YouTube Prima di arrestare la donna, gli agenti prelevano tutti i suoi figli adottivi per interrogarli Alcuni filmati a riguardo sono visibili online e, credetemi, sono strazianti I volti dei ragazzini sono sfocati ma i loro corpi magri riproducono il linguaggio del terrore Inizialmente sono riluttanti a rispondere alle domande e non li biasimo perché non si fidano né della polizia né di qualsiasi figura autorevole Come possono fidarsi? Si nota la ragazza cieca che entra nella stanza col suo cane guida e, pian piano, come tutti gli altri fratelli, trova il coraggio di aprirsi Tutti raccontano ciò che è successo loro, le condizioni in cui vivono e i maltrattamenti che subiscono Gli interrogatori si svolgono in alcuni giorni Intanto a Michelle viene permesso di parlare con i suoi figli a telefono E lei si dimostra ancora spregevole e poco lungimirante Perché cosa fa di nuovo? Li minaccia Dice ai suoi figli di stare attenti a ciò che dicono, altrimenti li caccerà via Li ucciderà pugnalandoli al collo Fortunatamente, nessuno di loro la ascolta più e gli interrogatori proseguono e si concludono Poi Michelle Hobson viene arrestata e accusata di sette capi di imputazione per abuso su minori Cinque accuse di abbandono di minori Cinque accuse di detenzione illegale E due accuse di morassie su minori I due figli biologici di Michelle, Logan e Ryan Vengono anche loro arrestati e accusati di sette capi di imputazione Per non aver denunciato gli abusi sui minori Logan, durante il suo interrogatorio, ammette di sapere che i bambini venivano rinchiusi nelle loro stanze Completamente isolati Ma nega di essere al corrente delle tornate praticate con lo spray al peperoncino Logan aggiunge che lui e Ryan hanno avuto una conversazione sull'eventualità di denunciare gli abusi Tuttavia, alla fine, entrambi hanno accantonato l'idea Stando alla legge dell'Arizona, le autorità stabiliscono che Ryan e Logan non sono colpevoli di alcun reato Loro non avevano il dovere di badare i fratelli adottivi più piccoli Perché Michelle era sempre presente in casa Di conseguenza, non possono essere ritenuti responsabili E per ora, tutte le accuse decadono Michelle è in carcere, in attesa di processo Quando il caso diventa di dominio pubblico La vicenda sciocca profondamente l'intero stato dell'Arizona Sette giovani star di YouTube sono state maltrattate Abusate e obbligate a esibirsi davanti alla videocamera Per arricchire il bottino della perfida madre adottiva Tuttavia, le notizie non si espandono solo a livello nazionale Come in altri casi di simile portata Passano i mesi, ma Michelle continua a dichiarare la sua innocenza Onestamente mi chiedo con che coraggio E afferma di non aver mai applicato nessuna di quelle punizioni sui suoi figli Incoraggia le persone a dare un'occhiata al suo canale YouTube Perché dai video caricati Traspare che i ragazzini erano tutti felici Dal più piccolo al più grande Ora subentra un altro problema Col passare delle settimane La salute di Michelle peggiore improvvisamente Subisce una lesione cerebrale Mentre è in custodia Forse non è più in grado di intendere di volere Quindi di affrontare un processo Infine, nel novembre 2019 Otto mesi dopo il suo arresto Michelle muore nella sua cella A causa di un arresto cardiaco Quindi non si terrà mai alcun processo E Michelle non riceverà mai una punizione per i crimini commessi Ecco perché su questo caso Restano sospese tante domande senza risposta Durante le mie ricerche, come detto Mi sono imbattuta in parecchie lacune Nella mancanza di numerose informazioni necessarie Per ricostruire questo caso in modo preciso Chiaramente, proprio perché non ha mai avuto luogo il processo La vera portata dei soprusi e delle privazioni subiti dai ragazzini adottati Non è stata rivelata Dopo la morte di Michelle Il caso scompare dai titoli di giornali L'accusa in realtà in parte si è sentita sollevata Perché durante i processi, come sappiamo, c'è sempre la possibilità che un imputato venga dichiarato non colpevole Quindi Michelle avrebbe anche potuto essere rilasciata E continuare a fare del male ad altri bambini o ragazzini indifesi e vulnerabili Un ulteriore vantaggio della mancanza del processo è che i figli adottivi di Michelle Non dovranno testimoniare contro di lei in tribunale Rivivendo con la mente tutti quegli orrori D'altro canto, come detto, dispiace che Michelle non sia stata punita per i suoi reati Quindi questo caso non si conclude con il trionfo della giustizia sulla criminalità, purtroppo E, a mio avviso, l'assenza del processo è grave anche perché i fallimenti del CPS non verranno mai portati alla luce Comunque, arriviamo a questo punto alle conclusioni Mi ricollego alla questione del fallimento delle istituzioni Perché vorrei esternare un pensiero a riguardo Anche se è stata Michelle a commettere questi orribili crimini Se il CPS e la polizia avessero svolto adeguatamente il loro lavoro Forse questo caso avrebbe avuto un epilogo diverso Infatti, alla fine del 2019, viene effettuata un'indagine interna Concludendo che sono stati commessi moltiplici errori Soprattutto reiterati Ma perché? Ebbene, il CPS riteneva che la polizia si stesse occupando del caso Ma la polizia credeva, invece, che fosse il servizio di protezione dell'infanzia a indagare a fondo Sapete qual è la mia impressione? Che fin troppo spesso la gente non ha voglia di fare il proprio lavoro E sono queste mene marce che producono simili fallimenti Mi dispiace, non posso accettare che questo caso si sia aggravato in tale maniera Per un errore di comunicazione, come è stato definito Inoltre, sembra che molte persone si siano coperte a vicenda Visto che si è svolta un'indagine interna Perché non avviare un'efficace revisione esterna, invece? Credo che, come per magia, questi errori di comunicazione Non verrebbero ravvisati E che emergerebbe una motivazione ben più grave Ma questa rimane una mia opinione Potrei parzialmente giustificare i dubbi Se, ad esempio, soltanto un paio di segnalazioni fossero giunte al CPS Nel giro di 5 anni Ma, come detto, ce ne sono state molte Molte di più Una dozzina all'incirca Tutte archiviate con un'unica motivazione Le accuse sono infondate Peccato che in quella casa c'erano dei bambini in pericolo Ora ne siamo certi Bambini che non ricevevano nemmeno una goccia d'acqua Ho un tozzo di pane per diversi giorni consecutivi Onestamente mi faccio delle domande anche sul rapporto dell'operatore Che, a seguito di una visita, ha scritto I bambini affermano di essere chiusi nell'armadio al piano superiore Per il 90% del giorno C'è una serratura inversa sulle porte Quindi non sono in grado di uscire I bambini, inoltre, dicono che vengono nutriti solo ogni due o tre giorni E Michelle toglie loro anche il privilegio di bere l'acqua come forma di punizione Oltre a colpirli alla testa e ad averli ritirati da scuola Michelle Hobson è a conoscenza delle indagini del CPS E informa i bambini che farà loro del male se diranno qualcosa Dunque, perché nemmeno a seguito di questo rapporto si è intervenuti? Perché se giorni dopo è stata programmata un'altra visita con un altro operatore Il quale ha concluso che tutto andasse bene Che in quella casa non si stesse verificando nessun abuso Per cui le accuse erano infondate Non trovate che sia quantomeno sospetta questa situazione? Chiedo la vostra opinione Davvero, fatemi sapere che cosa ne pensate Perché io questa situazione la guardo con molto sospetto Vogliamo poi parlare del bambino che è scappato di casa ed è stato ritrovato nudo Nudo nel cortile di un vicino Ha letteralmente implorato l'agente di polizia di non riportarla nella sua abitazione A causa delle condizioni in cui viveva Dire che questo caso è passato inosservato per me è una bugia Non ci sono scuse Una dozzina di denunce sono state stilate nel corso degli anni Dettagliando i sopprusi subiti da tutti i figli adottivi di Michelle Questo è uno dei peggiori casi di incompetenza e negligenza Da parte delle autorità di cui sono mai venuta a conoscenza Dopo questo tragico episodio Il CPS dell'Arizona si è sempre rifiutato di rendere pubblici documenti E risvolti delle indagini sul caso Sostenendo che sono informazioni riservate e confidenziali Anche se Michelle Hobson è morta Comunque alcuni dei lavoratori coinvolti nella negligenza Hanno subito una punizione Ma volete conoscerne l'entità? Preparatevi Sono stati sospesi per dieci ore Quindi non hanno percepito lo stipendio per il lasso temporale in questione Mentre i bambini e i ragazzini adottati da Michelle Hanno patito l'inferno per quasi un decennio Onestamente questa sanzione mi sembra una presa per i fondelli Rivela amaramente come le autorità hanno dato uno scarso valore al benessere Alla vita e al trauma profondo che tutti questi bambini e ragazzi dovranno superare Parliamo di ben sette soggetti che avranno bisogno di supporto psicologico per moltissimo tempo Se non per tutta la vita Hanno dovuto essere reinseriti nel sistema di affidamento e adozione E potete immaginare il terrore che avranno provato nell'entrare in una nuova casa adottiva Purtroppo tra l'altro sono anche stati divisi tra loro Non so come stiano questi ragazzi e bambini oggi Perché online non è disponibile nessuna informazione Ma spero dal profondo del mio cuore Che si stiano riprendendo al meglio da questi anni a dir poco orribili Mi auguro che possano allontanare dalla loro mente l'incubo di una madre malvagia e avida Il prima possibile Quanto a Logan e Ryan Non credo siano responsabili degli stessi crimini della madre Ma i miei occhi erano in tutto e per tutto complici di Michelle Dubito che non sapessero delle punizioni a cui Michelle sottoponeva tutti i suoi figli adottivi Dato che avevano vissuto sotto lo stesso tetto per 5 anni Nessuno mi toglie il dubbio che anche loro potrebbero aver partecipato ai castighi inflitti da Michelle Come accennato sebbene le accuse di aborto e negligenza a carico di Logan e Ryan Siano state ritirate Nel marzo 2023 i due sono stati nuovamente arrestati E accusati di diversi capi di imputazione per aborti intimi Logan a 31 anni viene accusato di 4 capi di imputazione per condotto assessore con un minore Un crimine che sarebbe avvenuto quando Logan aveva 20 anni E la sua vittima 9 infatti frequentava le elementari Logan è stato accusato di averla aggredita intimamente in più occasioni tra l'altro Ryan invece viene accusato di aver aggredito una bambina dall'età di 6 anni ai 9 Cominciando quando lui ne aveva 18 E dirvi che sono disgustata credetemi sarebbe un eufemismo I fratelli come detto sono ancora in attesa di processo Non sono stati ancora giudicati colpevoli di questi crimini Quindi restano innocenti fino a prova contraria I due ragazzi avrebbero iniziato ad assalire intimamente i bambini Quando si sono trasferiti per la prima volta a casa della madre Purtroppo è da oltre un anno che non ci sono aggiornamenti sul loro futuro processo Ma vi farò conoscere assolutamente tutte le novità Ovviamente vorrei sapere tutto ciò che pensate voi su questo caso Ne avevate mai sentito parlare prima? Cosa ne pensate delle accuse ora ritirate e messe a carico di Logan e Ryan? Cosa ne pensate dell'operato della polizia del CPS? Credete anche voi che un'indagine esterna potrebbe dare esiti più trasparenti e chiari? Cosa ne pensate degli operatori che hanno ricevuto quella ridicola punizione? Fatemi sapere quali sono i vostri pensieri, le vostre idee, le vostre sensazioni qui sotto nei commenti Sono davvero curiosa di leggervi perché io assolutamente leggo tutti i vostri commenti Tutti quanti, magari ci metto un paio di giorni ma li leggo tutti Quindi sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni Io ringrazio nuovamente Fisco Zen che ha supportato la realizzazione di questo video Se hai dubbi o vuoi semplificare la gestione della tua partita IVA Richiedi la tua prima consulenza gratuita cliccando sul link in descrizione E non dimenticare, c'è già un coupon inserito per ottenere 50 euro di sconto sul primo anno di servizio Detto questo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla di criminale Ciao a tutti